Tu capisci italiano? Sì, posso parlare italiano? Ok, allora la prima cosa voglio dire che sono molto felice di venire in Messico, è la prima volta in questo meraviglioso concerto che sarà sicuramente molto bello, con un bel programma. Per quanto riguarda le domande, tutti i grandi cantanti, tutti, assolutamente hanno avuto sempre delle pessime critiche, sempre. Io non voglio dire con questo che sono un grande cantante, assolutamente no, sono un cantante giovane e soprattutto il repertorio che io faccio, Manollesco, Potello, Tabarro, Cavalleria Rusticana che è debutto adesso l'8 marzo a Verona, è un repertorio molto particolare. E io credo che la gente che sente questi pezzi molto famosi e pezzi cantati dai cantanti come Franco Corelli e Mario del Monaco o anche Plassido Domingo, ovviamente vanno a paragonare e cercare un paragone tra, in questo caso, me e questi grandissimi interpreti. Questa è una cosa molto sbagliata perché ogni cantante è molto individuale. La critica può essere buona, non buona e questo assolutamente non vuol dire niente. Il teatro ti chiama, il teatro ti dà il contratto per lavorare, tu lavori, la gente viene per sentirti. Questo è bello. Poi se qualcuno vuole scrivere buona critica, possono farlo.